Buongiorno a tutti e bentrovati a Pubblica Utilità, la rubrica che con Andrea Giuricina turno conduciamo su Liberi Oltre STEM. Nelle scorse puntate ci siamo occupati tante volte dei temi dell'energia, della transizione energetica o transizione ecologica, come va di moda dire adesso, dell'incremento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica nelle ultime settimane che ahimè sono destinati a rimanere con noi per diversi mesi. Oggi ho pensato che sarebbe interessante cercare di ragionare su come sarà il mondo nei prossimi decenni, prendendo sul serio gli obiettivi che ci siamo assegnati a livello nazionale ed europeo nell'ambito del pacchetto cosiddetto Fit for 55. Per farlo ho chiesto una mano a un amico che è Francesco Lepre, direttore commerciale clienti Top Origination di Duferco Energia, che è una società di trading e vendita di energia elettrica e gas. Benvenuto Francesco. Grazie Carlo, grazie per l'invito. Francesco ha sviluppato nelle scorse settimane un giocattolo, chiamiamolo così, ha cercato di immaginare, di prendere sul serio appunto gli obiettivi relativi alla decarbonizzazione nel nostro paese, che sono essenzialmente obiettivi da un lato di installazione e penetrazione delle fonti energetiche rinnovabili, elettriche in primis e in altri ambiti. E dall'altro lato sono obiettivi legati all'elettrificazione del consumo, cioè legati all'obiettivo al principio di spostare sul vettore elettrico una serie di consumi come il riscaldamento, la mobilità eccetera, che oggi in gran parte sono soddisfatti da altri vettori, tipicamente il gas naturale per il riscaldamento e benzina, diesel e altri prodotti petroliferi per quanto riguarda la mobilità. Ecco, Francesco ha preso questi obiettivi e ha provato a calarli nella realtà, cercando di immaginare quale sia il fabbisogno di investimenti sottostante e quali possano essere le conseguenze dell'installazione delle fonti rinnovabili e dello spostamento di una serie di consumi verso l'elettrico che vanno assunti come necessari per arrivare appunto all'obiettivo di net zero, cioè emissioni nette, emissioni di CO2 nette pari a zero entro al 2050. Lascio quindi la parola a Francesco, io cercherò ogni tanto di interromperlo con qualche domanda, magari chiedendogli qualche chiarimento per farci raccontare, farci fare questa sorta di viaggio nel futuro, poi ritorneremo al passato o al presente, ma intanto chiedo a Francesco appunto di raccontarci come ha affrontato questa domanda e che tipo di risposta ha ottenuto. Allora, innanzitutto grazie per questa introduzione. Effettivamente, dici bene, è un giocattolo, è un modello matematico che ha l'obiettivo di cercare, di immaginare come il futuro potrà essere nell'ambito di questa ipotesi che tu presentavi. Vi racconto l'idea da dove nasce e soprattutto dove porta, ecco. Proietterei a questo punto. Perfetto. Partiamo da quello che, dalla situazione attuale in cui ci troviamo, da questa crisi energetica che ha visto l'andamento dei prezzi gas sia sui mercati spot che sia anche sui mercati a termine, salire moltissimo. Quello che abbiamo visto è che in quelli che sono i periodi front noi abbiamo un andamento dei prezzi con un'altissima volatilità. La volatilità più elevata normalmente l'abbiamo sempre nei periodi front per la struttura proprio dei forward. In particolare in questo momento perché la crisi, essendo una crisi gas, si ripercuote su quelli che sono i mesi più freddi, i mesi all'interno dei quali noi utilizziamo tanto gas. Dunque perché partivo da qui? Perché l'analisi, l'idea di questa analisi è nata proprio da questa domanda, cioè noi questa crisi che stiamo vivendo è una crisi passeggera, è una crisi che dobbiamo scongiurare per il futuro a cosa è legata. Abbiamo sottovalutato degli aspetti, è vero che stiamo andando verso la direzione delle rinnovabili, ma il gas ci servirà ancora in futuro e per quanto tempo nei prossimi anni. Allora, dunque, partendo da questa idea abbiamo costruito questo modello di simulazione con l'obiettivo che è quello appunto di immaginarci un futuro energetico nel nostro paese, immaginando ovviamente come qualsiasi modello matematico dei dati di input e le ipotesi al contorno. Vi farò vedere quindi il modello senza entrare nel dettaglio delle formule matematiche, ma insomma cercare di illustrarvi su cosa si basa questo modello e poi analizzeremo risultati, analisi di sensitività e arriveremo alle conclusioni. Quali sono gli obiettivi del modello? Sono fondamentalmente cercare delle risposte a tre domande. Allora, quali effetti delle FER avremo sui prezzi? Le FER sono le fonti di energia rinnovabile naturalmente. Conti di energia rinnovabili, esattamente, per cui come impatteranno oggi? Considerando che la tecnologia marginale fino adesso è stato il gas e la crisi gas si ripercuote sul mercato, sui mercati elettrici per questo motivo. Cioè abbiamo i mercati dell'energia in Italia sono a prezzo marginale, per cui il prezzo si forma sulla base della tecnologia marginale che in questo momento rimane il gas. In tecnologia marginale si intende la tecnologia che in ciascun momento, in ciascuna ora del giorno serve a soddisfare l'ultimo kilowattora addizionale di domanda di energia elettrica. Abbiamo fatto un video qualche settimana fa per spiegare questo meccanismo. Esattamente, ricordiamo che le FER nei mercati hanno priorità di disfacciamento, quindi dal punto di vista dei costi e dei prezzi, quindi non sono quelle che hanno il costo marginale più alto, ma è come ovvio che sia. La seconda domanda è immaginando un mondo dove la generazione elettrica viene garantita in grossa parte dalle fonti di energia rinnovabili. Quali effetti sui prezzi potrà avere la flessibilità? Quando parliamo di flessibilità, parliamo di flessibilità in diversi ambiti, in particolare le batterie associate alle fonti rinnovabili, flessibilità legata anche alla domanda. Sappiamo che andiamo incontro a una trasformazione anche nell'ambito della mobilità, immaginando che per esempio ci sia anche un'evoluzione sostanziale della mobilità elettrica, è una delle ipotesi anche del modello, quindi l'utilizzo anche di quelle che sono le batterie delle auto per generare flessibilità, per offrire flessibilità al sistema. Il tema della flessibilità è un tema particolarmente importante perché riguarda l'ambito dello sviluppo della tecnologia e quindi l'ambito di quello che poi è l'economicità di un sistema di questa tecnologia e richiede delle condizioni al contorno che permettano la sostenibilità e il ritorno di questi investimenti. Soprattutto la flessibilità è importante quando parliamo di fonti rinnovabili che normalmente sono poco programmabili. E infine la domanda chiave è saremo mai davvero indipendenti dal gas? Io ho messo questa foto che ho trovato su internet ma mi sembrava molto carina perché in questo momento stiamo vivendo questa crisi energetica e effettivamente abbiamo questi tubi, queste pipeline che sono vuote e la domanda è in futuro dovremmo temere ancora situazioni di questo tipo? Allora stiamo facendo delle ipotesi al contorno abbastanza forti per il modello che abbiamo trascurato quelli che sono i vincoli di rete nazionale quindi la diffusione anche delle ferre comunque omogenea sul paese non ci sono vincoli fisici un po' ipotizzando anche il superamento del del di quello che è il pun comunque non esistono vincoli fisici all'interno di questa di questo modello e un'altra ipotesi è che l'evoluzione omogenea dei mercati in Europa sia che l'evoluzione in Europa sia omogenea ecco ehm questa è un'altra ipotesi forte ma eh deve essere così perché sappiamo che essendo in coupling eh i mercati si influenzano l'un l'altro e non è possibile ipotizzare un modello matematico che traguarda i dieci vent'anni eh senza immaginare un'omogeneità nel paese nel panorama energetico europeo allora eh siamo partiti da uno scenario base eh di partenza ehm uno scenario allora lo scenario base di partenza ovviamente è lo scenario dal quale noi ipotizziamo poi di ehm di di aggiungere tasselli e incominciare a muovere questo modello verso la direzione che ci interessa lo scenario quindi di richiesta di energia basandoci soprattutto su scenari ehm presentati mh da Terna eh nell'ambito della della domanda vedremo che al duemila e cinquanta ci saranno delle mh ipotesi anche molto forti legate alla tecnologia che verrà utilizzata eh uno scenario sulla potenza installata allora ehm qui ragioniamo su uno scenario che si colloca eh diciamo leggermente sotto quelli che sono i nuovi parametri eh anzi sensibilmente sotto i nuovi i nuovi parametri del Green Deal ma non per una questione di pessimismo ma perché innanzitutto l'evoluzione delle delle l'EFER eh è prevista con un andamento esponenziale è uspicabile che sia così tuttavia ad oggi con il il PNIE che avevamo degli ambiettivi degli obiettivi ehm ambiziosi quattro giga e mezzo l'anno stiamo viaggiando a una media di 0,7 e 0,8 quindi cercavamo cioè l'idea è trasferire un un segnale realistico ecco di come potrebbe essere il mercato. Lo scenario eh delle ore equivalenti FER veniamo a un tema che avevamo Carlo affrontato insieme appunto su quelle che sono eh le ore equivalenti di funzionamento delle FER senza entrare nel dettaglio è chiaro che mh le prime le aree probabilmente ehm già coperte da fonti rinnovabili sono quelle che eh hanno delle ore equivalenti maggiori bisogna fare delle ipotesi eh ovviamente associare queste alla tecnologia e mh ci siamo basati anche qui su dati su dati terna. Il prezzo del gas e il prezzo del gas ovviamente è ehm una variabile che eh rimane fondamentalmente ehm chiave in questo modello perché ehm se devo dimostrare se le fonti rinnovabili ehm salveranno come dire il mercato energetico dalla dipendenza dal gas devo fare delle ipotesi forti sul gas e vedere eh che correlazione c'è poi sui mercati elettrici. Il prezzo della CO2 qui andiamo eh in un ambito di 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 scenario sappiamo che mh diversi ehm evidenti soggetti sui mercati hanno fatto ipotesi più svariate sulla CO2 e comunque tutti convergono ehm su uno scenario in salita. Probabilmente sarà così quindi ci si basa su uno scenario che va da 100 a 120 a 150 euro a tonnellate. Ecco scusami Francesco giusto per dare un punto di riferimento i prezzi della CO2 che sono eh come dire il costo che tutti coloro che consumano combustibili fossili e rilasciano CO2 nell'atmosfera eh devono sostenere per compensare tra virgolette il danno ambientale che producono sono stati per lunghissimo tempo eh estremamente bassi nell'arco tra diciamo tra i 5 e i 10 euro a tonnellate. Soltanto negli ultimi anni si sono spostati nel range tra i 20 e i 30 euro e eh da alcune settimane stanno raggiungendo livelli ehm credo senza precedenti certamente senza precedenti per un periodo prolungato di tempo eh nel momento in cui registriamo questa conversazione siamo sopra gli 80 euro quindi l'ipotesi di un prezzo della CO2 stabilmente sopra eh o attorno ai 100 euro a tonnellata è è abbastanza verosimile. Esattamente come verosimili sono sono le altre ipotesi relative appunto a quante fonti rinnovabili vanno installate e al fatto che visto che fonti rinnovabili vuol dire in grandissima parte eolico e fotovoltaico eh anche l'ipotesi soprattutto sull'eolico che diciamo i punti più ventosi siano già stati occupati quindi eh le 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 prossime i prossimi impianti avranno da un lato una tecnologia migliore avranno pale con una migliore aerodinamica eccetera e quindi a parità di vento saranno in grado di riprodurre una maggiore quantità di energia ma andranno verosimilmente a occupare eh siti meno ventosi quindi non è chiaro come questi due elementi si bilanceranno ma questo chiaramente scusa stavo un po' divagando Francesco ti ti restituisco la parola. Sì ehm è verissimo la la CO2 sta salendo inesorabilmente ci si aspettava che questo avvenisse e continuerà a succedere anche perché si tratta di un mercato in un certo senso libero ma come sappiamo ci sono delle dinamiche di intervento su eh quelle che sono le offerte per cui ehm è verosimile pensare che 100, 120, 150 siano siano delle delle quote che verranno raggiunte. Non dimentichiamoci che l'obiettivo della transizione energetica è la neutralità climatica quindi come dire eh arrivare ad annullare un incremento di CO2 all'interno del del pianeta per cui è una leva forte quella della CO2. Abbiamo ipotizzato ovviamente un rendimento medio dei cicli combinati perché i cicli combinati perché la tecnologia marginale dicevamo va a gas ma va a gas attraverso cicli combinati che sono cicli combinati turbine a gas turbine a vapore come generatore di di vapore a recupero. E tra gli impianti a gas sono quelli caratterizzati da un'efficienza maggiore che diciamo tipicamente si aggira attorno al 60 per cento cioè fatta 100 la quantità di energia contenuta nel gas che viene bruciato l'output il prodotto in termini di energia elettrica vale 60 c'è una perdita attorno al 40 per cento per dare un un termine di paragone il motore endotermico della vostra automobile ha un'efficienza attorno al 30 35 per cento. Esattamente. Dopodiché abbiamo fatto un'ipotesi in realtà non è un'ipotesi questa ma abbiamo inserito il dato di input del coefficiente di conversione CO2 megawattora perché ovviamente nella generazione di energia elettrica da cicli combinati c'è un'emissione di CO2 questa CO2 ha un costo per per le centrali quindi occorre inserire all'interno del modello anche questo costo attraverso questo coefficiente che normalmente è di 0,04 tonnellate a megawattora infine abbiamo ipotizzato un clean spark spread medio che rappresenterebbe quello rappresenterebbe il margine per le centrali basandoci un po' sui dati storici ecco. Ora qui si potrebbe aprire un capitolo enorme sulle politiche di bidding delle centrali sui mercati però abbiamo pensato di inserire soltanto il dato medio degli ultimi quattro anni. Il modello quindi elabora tutti questi dati e genera sostanzialmente tre output delle curve residuali. La curva residuale non è altro che la differenza poi la riprenderemo la differenza tra il fabbisogno energetico e la generazione di fonti rinnovabili genera delle simulazioni di prezzi con l'effetto fair partendo da una CO2 inchiodata a un valore come dire minimo intorno ai 50 euro a tonnellata perché questo perché non è in questo grafico che vedremo non ci sarà l'obiettivo di vedere l'andamento dei prezzi nel dettaglio ma capire l'effetto delle fair su questi prezzi tenendo fermi le altre variabili. Infine un'analisi di sensitività. L'analisi di sensitività ci permette di capire al variare degli scenari come possono cambiare i prezzi e quindi poi arrivare alle conclusioni, trarre appunto le conclusioni di questa simulazione. Allora partiamo dal dato base. Abbiamo preso come dato di partenza del 2019 perché? Perché nell'arco del 2020 ormai sappiamo tutti ci sono stati i famosi mesi di lockdown praticamente ovunque, la domanda è stata anomala, non era un buon dato di partenza per incominciare ad analizzare questo modello. Sulla base quindi del 2019 abbiamo una curva dei fabbisogni, una produzione fair e quindi l'andamento di una curva residuale. Ora qua è un dettaglio orario e adesso cerchiamo di capire che cosa vuol dire questo grafico andando a analizzarlo su una settimana media. quindi questo è l'andamento del fabbisogno di una settimana media nel corso del 2019. Come vediamo ci sono durante la notte c'è un decremento del fabbisogno, c'è normalmente a metà giornata una piccola la pausa come dire la pausa pranzo che rallenta i consumi e poi c'è il fine settimana. Questa è la produzione da rinnovabili come vediamo c'è un picco durante le ore del giorno, quelle centrali che poi concorrono ad abbassare il prezzo nell'arco della giornata. La curva dei prezzi è cambiata moltissimo negli ultimi anni rispetto all'inizio. Carlo sai bene quando si parlava di spread picco base altissimi oggi siamo arrivati a livelli molto molto più bassi però ecco il rinnovabile il fotovoltaico in particolare ha concorso a diminuire questo spread. Quindi la curva... Francesco naturalmente parliamo in questo discorso dei prezzi all'ingrosso dell'energia che rappresentano una frazione attorno al 40 per cento, ora ha quei prezzi molto alti un po' di più, 50-55 per cento della bolletta che poi concretamente ciascuno di noi riceve a casa ma su questo torneremo un'altra volta perché nelle prossime settimane faremo una puntata proprio su come è fatta la bolletta. Sì esattamente stiamo parlando proprio di questi prezzi, parliamo nell'ambito del mercato spot dell'MGP in particolare, quindi come ci si scambia energia tra grossisti sui mercati spot. Questa è la curva residuale, la curva residuale è la differenza tra questa curva del fabbisogno e questa curva delle rinnovabili. Abbiamo già un primo dato qua. Che cosa ci dice questo grafico? Che fino a quando questa curva residuale rimane sopra l'asse dello zero, quindi è positiva, la tecnologia marginale rimane, diciamo, una tecnologia diversa dalle fonti rinnovabili che nel caso dell'Italia è il gas. Quindi di fronte a un grafico di questo tipo possiamo dire noi oggi sappiamo che la tecnologia marginale, cioè che il prezzo, viene definito dal gas. Torniamo quindi a quello che abbiamo visto all'inizio, cioè che a fronte di questo è chiaro che una crisi del gas si ripercuote anche sui prezzi dell'energia elettrica. Ora, elaborando le ipotesi di crescita delle FAIR e anche della domanda power in Italia, abbiamo fatto un salto arrivando al 2030. Allora, al 2030 ci sarà un incremento sicuramente della domanda, ci sarà un incremento secondo quelli che sono i piani di sviluppo delle fonti rinnovabili, quindi per fonti rinnovabili in particolare si sta ragionando su rinnovabili fotovoltaico e eolico. Come vedete c'è un incremento molto sensibile di quelle gobbe durante il giorno, che sono legate proprio al fotovoltaico e incominciamo a vedere delle ore negative. Allora, è sufficiente questo per dire che saremo indipendenti al 2030 dal gas? Ecco, aspetta Francesco, scusa, ti interrompo per spiegare una cosa. Quando Francesco dice ore negative si riferisce al fatto che il sistema elettrico per definizione deve essere sempre in costante equilibrio, quindi la quantità di energia immessa nella rete deve corrispondere esattamente alla quantità di energia elettrica che viene ritirata. Ora, nel vecchio mondo in cui non c'erano le fonti rinnovabili, questo risultato veniva ottenuto tra virgolette semplicemente perché l'offerta si adeguava, per lo meno in condizioni normali, alle esigenze che c'erano della domanda. Tu consumavi di più perché accendevi il condizionatore, da qualche parte un impianto, per esempio alimentato a gas, entrava in esercizio per fornire quell'energia di cui avevi bisogno. Con le fonti rinnovabili non funziona più così perché non sei tu che decidi quando il vento soffia e quanto vento soffia, oppure quando il sole splende e quanto sole splende. E quindi possono esserci dei momenti in cui l'offerta di energia istantaneamente supera la domanda. Questo naturalmente non può verificarsi, pena il rischio di determinare dei disservizi sulla rete e quindi occorre bilanciare, in questo senso diceva Francesco che serve un contributo negativo, o aumentando istantaneamente il carico domandato in qualche modo, oppure andando a ridurre le emissioni di energia in rete, per esempio assorbendo l'eccesso di produzione attraverso delle batterie o altri accumuli come un bacino idroelettrico a pompaggio, eccetera. Ok, quindi questo è lo scenario al 2030, qui ipotizzando appunto come dicevi Carlo delle batterie si può ipotizzare che questa energia venga immagazzinata e poi resa al sistema in ore in cui ce n'è necessità. Passiamo al 2040, qui vado un po' più rapidamente, abbiamo capito come funziona insomma la curva residuale, vediamo che aumentano le ore in cui la curva residuale diventa negativa, ci sono molte ore anche vicino allo zero, tuttavia ci sono, continuano a esserci molte ore ancora positive in queste ipotesi. Il 2050 ha delle ipotesi molto forti, perché siamo in uno scenario nel quale è previsto un fabbisogno estremamente elevato, stiamo parlando di qualcosa che supera i 600 teravattora di energia in Italia, quindi traguardiamo veramente uno scenario di elettrificazione totale del paese e stiamo immaginando anche l'utilizzo di tutta la mobilità come elettrica, stiamo immaginando anche l'utilizzo di tecnologie idrogeno, gli elettrificatori, gli elettrolizzatori scusate, che assorbono grosse quantità di energia elettrica e in questo scenario ovviamente l'assorbimento in Italia aumenta moltissimo. Oggi insomma dipende dagli anni, ma siamo sempre intorno ai 300 teravattora, ecco, per cui parliamo di un incremento sensibile. In questo scenario è previsto quindi anche un incremento sensibile delle fonti di energia rinnovabile. ammesso e non concesso che i rendimenti siano in grado di generare energia sufficiente anche per remunerare questi investimenti e che vi siano anche ambiti, come dire, fisici dove collocare tutti questi impianti. Dunque, quindi questo è lo scenario del 2050. A fronte di questo quindi che cosa viene fuori? Il modello ci dà dei risultati. Innanzitutto partiamo dallo scenario storico e andiamo a vedere com'è la correlazione tra i prezzi del gas e i prezzi dell'energia elettrica. Come vediamo è una correlazione praticamente lineare, per quanto abbiamo detto fino adesso, proprio perché parliamo di un mercato a tecnologia marginale a gas. Per cui quando cresce il prezzo del gas, cresce anche il prezzo dell'energia elettrica. Ora inchiodiamo un attimo tutte le altre ipotesi e andiamo a vedere cosa succede negli scenari che abbiamo visto. Cioè lo scenario al 2030 e lo scenario al 2050. Immaginando però di non riuscire a utilizzare quell'energia che fa parte delle curve residuali negative. Cioè non riusciamo a sviluppare delle tecnologie di flessibilità. Cioè non sono sostenibili dal punto di vista dell'investimento. Quello che vediamo è che... Scusa, Francesco, è grossomodo la realtà attuale. È la buona descrizione della realtà di oggi. Gran parte della scommessa sul 2030-2050, nel senso che Francesco sta per illustrare, è legata appunto alla scommessa che il progresso tecnologico riesca a rendere sostenibile dal punto di vista economico e tecnicamente performanti in modo adeguato le batterie. Cosa intendo quando dico tecnicamente performanti? Che noi abbiamo delle batterie che fanno molto bene il mestiere di accumulare l'energia fino a un certo limite ovviamente e restituirla nel giro di poche ore. Non siamo ancora in grado, in termini economicamente convenienti, di avere batterie che accumulano l'energia non da un'ora all'altra, ma da un giorno all'altro, addirittura da una settimana all'altra. Perché con le fonti rinnovabili, essendo estremamente legati a variabili climatiche, l'esigenza è proprio quella di spostare produzione di energia dai momenti in cui c'è tanto vento, c'è tanto sole, per esempio l'estate nel caso del sole, ai momenti in cui invece vento e sole non ce ne sono, come quello che stiamo vivendo, che è una delle ragioni per cui paghiamo così tanto l'energia elettrica e il gas. Sì, esattamente. Per cui, allora, il primo risultato che è molto interessante è che, allora, innanzitutto già da analisi passata avevamo visto che le fonti rinnovabili tendono a diminuire la volatilità nell'ambito dei prezzi, quindi benvengano le fonti rinnovabili, benvengano anche per quest'altro effetto, e cioè stiamo vedendo che l'incremento delle fonti rinnovabili piega questa curva, quindi piega, passatemi il termine, questa correlazione, se mi sentisse un matematico penso che rabbrividirebbe, però piega questa curva di correlazione, la abbassa. E questo è positivo, perché ovviamente all'aumentare del prezzo del gas non corrisponderebbe più un aumento dell'energia elettrica, e la piega in questo modo. se vado a ipotizzare la flessibilità, cioè vado a ipotizzare di recuperare anche questa energia, di immetterla nelle ore in cui ce n'è bisogno, ovviamente l'effetto è maggiormente positivo. Vedete che queste curve tendono ad abbassarsi, e si abbassano anche di parecchio. guardate, nello scenario con flessibilità del 2050 si abbassano tantissimo. Quindi questo inchiodando la CO2. Ora vediamo, immaginiamo, tornando al concetto di giocattolo, immaginiamo che cosa potrebbe succedere nei mercati, nei prossimi anni. Anche qui abbiamo fatto uno scenario senza flessibilità e uno con flessibilità. Era doveroso farlo, perché quanto diceva Carlo è senz'altro prezioso. Partiamo da un ambito in cui non esiste la flessibilità, quindi è sicuramente scontato che dovremo studiarci, bisognerà svilupparlo, ma non è scontato quando riusciremo a raggiungere un sistema che sarà altamente flessibile. Cioè non bastano poche batterie. Dunque, allora, vediamo che gli scenari che vengono presentati senza flessibilità sono degli scenari che prevedono un prezzo del gas a 20 euro a megawattora, quindi partiamo da prezzi molto bassi, iniziamo ad aumentare, andiamo a 30, 40, 50 e via così. E vediamo come cambia l'effetto sui prezzi. A questo abbiamo associato anche, come vedete, un andamento della CO2 che è incrementale. Qui, parlando di un'analisi di sensitività, dobbiamo in qualche modo fare delle ipotesi che si avvicinino a quella che secondo noi potrebbe essere la realtà del futuro e quindi andare a 100 euro a tonnellata, 120 e 150. Questa ipotesi sarà fondamentale anche per il secondo grafico. Come si vede, l'andamento dei prezzi tende a curvare, quindi l'effetto delle fonti rinnovabili associate anche a un incremento del prezzo del gas e a un incremento del prezzo della CO2 comunque porta un beneficio e quindi tende a schiacciare i prezzi verso il basso. Ora, se io introduco la flessibilità, l'effetto è estremamente positivo e qui l'ipotesi della CO2 in incremento diventa fondamentale perché? Perché molte tecnologie, tra le quali anche gli elettrolizzatori, hanno uno switching price che è abbastanza alto, uno switching price sulla CO2 che è abbastanza alto ed è sostanzialmente un prezzo che si avvicina, è difficile da definirlo oggi ma molti parlano di 150 euro a tonnellata, quindi vuol dire che investire oggi negli elettrolizzatori con una CO2 sebbene molto alta sopra gli 80 euro a tonnellata comunque ha un payback come dire molto lungo almeno e quindi è fondamentale fare delle ipotesi su un incremento di CO2 a rialzo. Detto ciò quindi vediamo l'effetto delle fonti rinnovabili e della flessibilità porta una diminuzione dei prezzi. Arriviamo quindi a quelle che sono le conclusioni. Che cosa possiamo dire avendo visto insieme questo modello? Allora la prima cosa che è doverosa da dire che dovremo accelerare il più possibile sulle fonti di energia rinnovabili perché altrimenti tutto quello che è sulla carta rimarrà sulla carta cioè fondamentalmente è molto difficile ipotizzare che la dipendenza dal gas possa essere come ho sentito anche da persone illustri dire ultimamente possa essere solo di qualche anno. Quindi lo scenario in cui ci troviamo oggi è uno scenario che deve essere in qualche modo evitato nei prossimi anni perché per i prossimi probabilmente 15-20 anni avremo bisogno ancora di gas. Quindi dobbiamo ragionare in un ambito di approvvigionamento di gas chi dice che non abbiamo bisogno di gas per i prossimi anni probabilmente ha un'idea di sviluppo delle fer che non corrisponde alla realtà in questo momento. Dunque la dipendenza dal gas quindi comporta un doveroso una doverosa riflessione su quelli che sono i contratti di approvvigionamento di gas di lungo periodo perché la situazione in cui ci troviamo oggi è una situazione legata al fatto che stiamo andando a comprare gas praticamente tutta Europa compresa l'Italia su un mercato spot e quindi siamo soggetti alla volatilità di questi prezzi. È doverosa fare una riflessione in questo ambito ragionando che per 15 anni almeno il gas ci servirà. Le fer concorreranno a stabilizzare a ridurre la volatilità dei prezzi e il ritardo nella loro realizzazione comporta un costo per tutti i paesi in particolare per l'Italia per quello che abbiamo visto sostanzialmente perché non c'è una tendenza al ribasso dei prezzi. In questo momento per riuscire quindi a stabilizzare a evitare la volatilità dei prezzi e per riuscire a uscire dalla dinamica di questi prezzi legati al gas una delle strade che può essere percorribile è quella dei PPA e quindi andare a utilizzare quelli che sono gli impianti da fonti rinnovabili che poi vanno in grip parity sostanzialmente che vanno a generare energie elettriche viene venduta direttamente verso la domanda abbiamo visto evidentemente quanto sia preziosa la flessibilità la flessibilità si basa su tecnologie sulle quali dovremo lavorare e si dovrà lavorare non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista dei modelli economici perché la tecnologia non può diffondersi se non c'è una sua economicità in questo momento diciamo che i presupposti non sono ancora non esistono ancora o meglio non ci sono ancora elementi maturi affinché questa flessibilità sia diffusa l'accelerazione dei progetti FER comporterà il fatto che il peso del costo marginale maggiore di zero su mercati dell'energia come MGP e MI si andrà a spostare verso i mercati per i servizi di dispacciamento cioè se io ho molte fonti rinnovabili se avessi tutte fonti rinnovabili sufficienti a soddisfare il mio fabbisogno avrei dei costi marginali praticamente molto simili a zero e quindi il mercato dell'energia non avrebbe più non sarebbe più accompagnato da mercati a termine nei medi lunghi periodi ma solo da contratti bilaterali PPA che remunerano l'investimento tuttavia trattandosi di fonti rinnovabili non programmabili le oscillazioni di questa produzione comporterebbero interventi sul mercato per il servizio di dispacciamento e quindi lì si concentreranno probabilmente i contratti a termine quindi abbiamo detto lo stabilizzarsi dei prezzi diminuzione dei prezzi ricordiamoci sempre tuttavia che abbiamo sempre bisogno di uno zoccolo duro di energia che probabilmente nei prossimi anni sarà come dicevo prima alimentato da gas e avremo bisogno sempre di più di flessibilità che sposterà questi contratti a termine verso l'MSD questa è no grazie grazie no no ultima ultima soltanto ehm chiarimento quando MSD è eh un una sessione di mercato sostanzialmente in tempo reale o molto vicino al tempo reale eh attraverso cui eh l'operatore del della rete che è terna nel nostro paese della rete di trasmissione nazionale eh a giusta domanda e offerta tenendo conto dei cambiamenti che possono intervenire in corso di giornata eh rispetto al diciamo al a quanto a quanto previsto e questo può avere a che fare per esempio col fatto che le condizioni climatiche sono diverse da quanto da quanto ci si aspettava per esempio una giornata è più nuvola eh rispetto a quello a quello che dicevano le previsioni o è più o meno ventosa eh possono derivare da disservizi temporanei degli impianti di produzione possono derivare dal fatto che eh dal lato della domanda i consumatori per qualche ragione consumano più o meno di di quanto previsto quindi diciamo questi questi aggiustamenti che sono necessari eh costantemente che rappresentano la parte per certi versi più complessa del lavoro eh di terna e degli operatori di rete richiede di intervenire appunto in tempo reale per aggiustare domanda offerta e evidentemente non può essere fatta con fonti rinnovabili che per definizione sono non programmabili ma richiede eh la disponibilità o di energia accumulata nelle batterie o in altri in altri nel in forma di idrogeno o o in altri mezzi o l'utilizzo di impianti convenzionali tipicamente quelli alimentati a gas credo che Francesco abbia eh offerto una 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 buona e completa panoramica eh di quello che possiamo immaginare essere il futuro sulla base chiaramente di quello che sappiamo eh qualunque previsione eh va sempre presa con le pinze eh tanto più con le pinze quanto più l'orizzonte temporale si allarga si allunga perché chiaramente eh tutti quanti eh crediamo e speriamo che eh da qua al duemilacinquanta quindi nell'arco di una trentina d'anni eh il progresso dell'innovazione tecnologica ci mettano a disposizione delle delle tecnologie che magari oggi neppure neppure ci immaginiamo o delle quali non riusciamo a immaginare specifici utilizzi e tuttavia eh uno eh quando quando cerca di costruire una policy che sia una policy dal punto di vista del paese o che sia una strategia eh di un'impresa deve fare i conti con con le informazioni che ha e con quello che ragionevolmente può aspettarsi dal futuro oggi sulla base di quello eh che abbiamo che sappiamo che osserviamo eh possiamo aspettarci appunto che l'incremento eh delle delle fonti rinnovabili che deve essere davvero sostenuto rispetto ai livelli che abbiamo osservato negli ultimi anni per arrivare all'obiettivo di di Net Zero eh possa produrre fondamentalmente il tipo di effetti che ha che ha descritto Francesco eh ma tra questi effetti non c'è almeno nel futuro prevedibile quello di emanciparci completamente dal gas e questo giustifica eh il fatto di mantenere una forte attenzione a quanto accade sui sui mercati gas perché altrimenti rischiamo di trovarci sempre più in situazioni come quella che stiamo attraversando in questo momento Carlo se posso permettermi aggiungerei solo una parola a quanto dici e cioè è fondamentale entrare in quest'ottica anche perché non è non è qualcosa che ci deve spaventare altrimenti il contesto in cui ci troviamo comporta il fatto che stiamo sguarniti lato gas e andiamo a utilizzare delle fonti che sono molto più inquinanti sappiamo bene che per riuscire a sopperire la mancanza di gas abbiamo riacceso centrali a carbone sì in alcuni paesi europei addirittura centrali a olio combustibile che oltre che inquinanti sono anche sono anche estremamente costose ovviamente quindi speriamo che anche la puntata di oggi sia servita più che a rispondere a delle domande a fare delle domande perché poi chiaramente ogni esercizio di questo genere serve appunto a mettere a fuoco quali sono le incognite a cui andiamo a cui andiamo incontro e quindi quali possono essere le potenziali soluzioni ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito e ringrazio soprattutto Francesco Lepre per il tempo che ci ha dedicato grazie a te e grazie a voi e noi ci vediamo tra un paio di settimane mentre settimana prossima sarete ospiti o ostaggio di Andrea Giuricin buona giornata a tutti grazie a tutti